La ricerca di valore è il nostro territorio. La Fondazione Toscana Life Sciences lavora ogni giorno in quella stessa terra, la Toscana, che forte della sua storia ha fatto delle scienze della vita, un settore strategico per il futuro. È qui che l'Europa sta investendo in termini di sviluppo, ricerca e innovazione. Da Siena, TLS, attrae e fa crescere start-up innovative e progetti industriali. Offre sostegno e strumento ad importanti progetti di ricerca pubblici e privati. Supporta le imprese nello sviluppo dei business e del trasferimento tecnologico. Coordina la formazione professionale di settore. Valorizza e gestisce progetti strategici per il sistema sanitario e per tutto il settore delle scienze della vita in Toscana. TLS è un valore per il presente e un'opportunità per il domani, perché lavora ogni giorno per contribuire a generare ricerca ad eccellenza, impresa innovativa, trasferimento tecnologico, attrazione di investimenti, occupazione di qualità. Tanti obiettivi che fanno capo ad un'unica missione. Migliorare la qualità della vita e la salute delle persone. Adesso avete un motivo in più per innamorarvi della Toscana. Fondazione Toscana Life Sciences. La ricerca di valore è il nostro territorio.